Ad Arenzano la CF ottiene il quattordicesimo risultato utile e consecutivo vincendo sul Genoa per 4-0. L'Arezzo passa già al nono minuto con Verdi cercando Gnischi che fredda la portiera avversaria ed è 1-0. Al quattordicesimo mischia in area retina, il tiro delle Genoane finisce a lato dalla porta retina, difesa da Liquo inserita da Testini solo pochi istanti prima della gara. Poco più tardi risponde l'Arezzo ed il Genoa si salva grazie all'uscita providenziale del portiere Macera e al venticinquesimo proprio Macera combina il pasticcio, perde la palla maldestramente e Ceccarelli ne approfitta per il 2-0 delle Amaranto. Al trentasettesimo Ceccarelli si districa dalla difesa del Grifone e manda in rete il terzo pallone. Non passa nemmeno un minuto dall'inizio della ripresa e subito le aretine mettono in archivio il risultato. Ceccarelli pallonetto su errore del portiere Ligure ed è 4-0. Ventinovesimo Genoa in avanti ma il tiro finisce alla sinistra della porta Amaranto. Giornata di festa per le aretine di Testini ma è già alle porte la Coppa Italia mercoledì prossimo.